Tutelare è un prodotto d'eccellenza sempre più ambasciatore di Toscana. Continua l'impegno della Camera di Commercio di Firenze a sostegno delle aziende del settore agroalimentare. Questo anche grazie alla selezione dei migliori oli DOP e IGP. L'obiettivo è quello di far crescere con azioni promozionali, economiche e di immagine in Italia e all'estero i produttori di olio e nel contempo diffondere la cultura dell'olio extravergine di oliva di qualità certificato. Un progetto storico della Camera di Commercio che viene da primi anni 90 e ora lo svolgiamo insieme alla Regione Toscana, a Fondazione Sistema Toscana e a Promo Firenze in quanto azienda speciale della Camera di Commercio. Lo scopo è evidenziare i migliori oli toscani per promuoverli all'estero con immagini, azioni economiche e promuovere appunto tutto il comparto oleario. Sono 44 le aziende selezionate quest'anno, 52 oli, quindi l'eccellenza degli oli toscani. L'importanza dell'olio in Toscana è assoluta e da sempre. L'olio esalta i piatti della tradizione toscana. Quindi voglio pensare a 360 gradi, la pianta dell'olio che dà bellezza alle nostre campagne. Quindi un'azienda che lavora bene, non lavora per dare un valore solo a se stessa ma contribuisce a dare un valore alla Regione Toscana nel mondo. Per il potenziamento dell'export, Promo Firenze, azienda speciale della Camera di Commercio di Firenze, promuove tre webinar informativi l'8, il 16 e il 30 giugno prossimi. Questi i temi, marketing strategico, le leve operative del marketing internazionale, nuovi packaging e sostenibilità. Dei webinar di formazione per affrontare il mercato estero dal punto di vista del marketing, del branding, del packaging. E così a 360 gradi le aziende toscane sono pronte a affacciarsi a dei mercati importanti che danno sempre il lusso alla Regione Toscana. La produzione di olio in Toscana si attesta mediamente intorno a 150.000 quintali annui, circa il 7% della produzione nazionale. La nostra Regione si contraddistingue per la qualità. Su scala nazionale, il 25% di oli DOP e IGP arriva dal Gran Ducato, 383 frantoi attivi di cui 82 in provincia di Firenze, mentre ammonta circa 700 milioni di euro. Il valore dell'olio esportato dalla nostra Regione. Se è in regola con la PEC della tua impresa, se la tua azienda non ha ancora registrato un domicilio digitale o se quello già comunicato a registro imprese non è più valido o funzionante, stai rischiando una sanzione. Informati subito sul sito della Camera di Commercio di Firenze. Transizione green e digitale. Se ne parla nel webinar su Zoom rivolto ad imprese e professionisti, programmato per martedì 31 maggio alle 14.30 dalla Camera di Commercio Maremma e Tirreno. Info e iscrizioni sul sito di Union Camere Toscane. È programmato per martedì 31 maggio alle 16.30 Lo webinar Digital Transformation del settore culturale e creativo, Big Data e Marketing 4.0. Si parlerà di social media marketing e assistenza a fidelizzazione del cliente. Info e iscrizioni sul sito della Camera di Commercio di Firenze. Scopri anche tutte le altre novità su www.fi.camcom.gov.it Grazie a tutti.